Allora? È proprio Fico! Idiota! Ma che cosa ha detto? Dice che ho dei ricetti che stanno bene con la mia faccia! Ma è proprio lui! Beh, sembra che è lui! Però chi lo sa? E sai una cosa? Non sembrava interessato quando gli ho detto che la capra porta la zucca! Zuppa! La capra porta la zuppa! Tu rovini tutto quanto! Zuppa? Senti, ma come fa? Fanculo! È lui! Io so che è lui! La capra porta la zuppa? Sono sicuro che è impossibile! Caralek! Ha detto?